Ciao amici, benvenuti in mia cucina La ricetta anche alle panzotti La mia ricetta senese preferita La più sublime di tutte Ingredienti peopini Spinacchi Eubo Giea Facultativo Formaggio Persa Ucornabulla E Noche Mosca Per się Grazie Modigliati Steak Provechen come un capelletti pronto come un capelletti ma di dimensione diversa differenza tra i panzotti e i capelletti per la salsa di noji panna noji aggiù aggiù piccino che pru buon appetito buon appetito buon appetito buon appetito buon appetito